giovedì 19 ottobre 2017 dal vangelo secondo luca capitolo 11 versetti da 47 a 54 in quel tempo il signore disse guai a voi che costruite sepolghi dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri essi li uccisero e voi costruite per questo la sapienza di dio ha detto manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno perché a questa generazione sia sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo dal sangue di abele fino al sangue di zaccaria che fu ucciso tra l'altare il santuario sì io vi dico ne sarà chiesto conto a questa generazione guai a voi dottori della legge che avete portato via la chiave della conoscenza voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito quando fu uscito di là gli scrivi e farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca cari amici venendo tra noi gesù che è il figlio di dio ha trovato fuori luogo certe pratiche che impedivano l'incontro degli uomini con l'amore del padre per questo è severo con i sacerdoti gli scrivi i farisei e in particolare con i dottori della legge guai a voi dottori della legge che avete portato via la chiave della conoscenza voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito dio ci serve di mediatori in particolare di profeti ma abbiamo visto che gli inviati di dio non hanno mai avuto vita facile e tutt'oggi è così l'uomo vuol fare le cose a modo suo e soprattutto con suo comodo e vantaggio l'ostilità nei confronti della fede e soprattutto della chiesa è molto forte oggi nella società perché la cosiddetta modernità si oppone ad ogni regola e non accetta che qualcuno dica cosa si deve o non si deve fare fosse anche dio oggi le parole d'ordine sono libertà diritti autodeterminazione e si arriva a imporre un modello di uomo che non è più uomo o donna come dio ha creato ma qualcosa d'altro che spetta l'individuo decidere non parliamo poi di altre gravi conseguenze indotte da questi principi su tutti gli aspetti della vita umana famiglia compresa i nuovi dottori che detengono il potere mediatico hanno portato via la chiave della conoscenza incuranti del giudizio di dio e della loro salvezza eterna e ciò che è grave che stanno trascinando nel baratro un'intera generazione il pericolo è presente anche nella chiesa oggi ci vuole coraggio per andare controcorrente molto coraggio e tanti si lasciano prendere dalla convinzione che alla fine sia meglio andare incontro scendere a patti col mondo i tempi sono cambiati bisogna capire bisogna comprendere certo ma ricordiamo le parole di gesù in giovanni 15 19 voi siete nel mondo ma non siete del mondo se foste del mondo il mondo amerebbe ciò che è suo poiché invece non siete del mondo ma io vi ho scelti del mondo per questo il mondo vi odia e avverte la fine ancora in giovanni 14 30 31 non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo egli non ha nessun potere su di me ma bisogna che il mondo sappia che io amo il padre e faccio quello che il padre mi ha comandato stiamo in guardia amici e cerchiamo di camminare alla luce della fede e del vangelo dio vi benedica ora e sempre